Ciao ragazzi, questa non è una gara fatta in live ma è una gara che ho registrato e che molti, secondo me, molte persone hanno già fatto come voi, come altri youtuber Praticamente è una gara fatta con la motocicletta su questo circuito notturno, con questi archi di fuoco Ragazzi, questa gara è praticamente ora inaccessibile, non si capisce se è stato un errore proprio di Rockstar nel pubblicare queste gare che poi non dovevano essere pubblicate Magari dovevano essere messe nelle prossime settimane, come già mi è capitato con un'altra gara Quindi ragazzi, abbiamo fatto delle gare che praticamente non dovevano essere fatte Quindi questa gara qui che, come ben vedete, è abbastanza figa, anche se abbastanza rognosa perché appena fate un... come ben sapete hanno cambiato la fisica delle motociclette e del gliding Praticamente appena impennate dopo un salto la moto va a fanculo da sola, cioè ne va per cazzi sua e non riuscite mai più a riprenderla E per questo poi ho perso la gara proprio all'ultimo secondo, come potete poi vedere nel finale perché ho fatto un po' lo stronzo, sbagliato in un tubo Comunque è una gara abbastanza figa che però ora se voi andate a cercare nel social club non la riuscite più a trovare E questo è una delle gare che vi ho parlato già nel video ovviamente di stamattina E' una cosa molto strana, una cosa ambigua anche se comunque Rockstar ha commesso tali errori già altre volte Pubblicando cose che non doveva pubblicare oppure facendo cose che non doveva fare come quella di rovinare il creatore Come ha già fatto ultimamente rovinando praticamente il creatore, rendendolo molto più difficile E trollando i creatori dicendo che la data dei nuovi oggetti uscirà, il nuovo creatore uscirà il 2 agosto Ragazzi io vi lascio con il video, vi lascio con la gara e con la musica in background nello sfondo E ci vediamo ovviamente al prossimo video, lasciate un like di supporto, sapete che aiuta sempre E ragazzi un abbraccio come sempre a tutti, ci vediamo al prossimo video, ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti